Ginocchiere Coolmax, ginocchiere costruite con accortezza di dettagli, polimero gommato molto morbido e pieghevole, sganci veloci per agganciarle e metterle in maniera molto rapida, taglia unica, la composizione è 40 per cento nylon, 30 per cento neoprene, come potete vedere qua, 25 per cento TPU-71D, un materiale particolare anti abrasione che è questo, e 5 per cento EVA, costruite con molta precisione, come vedete nelle parti più di usura ci sono dei rinforzi interni, Coolmax, bullonate sopra e sotto, cuciture fatte molto bene, e facilità di montaggio, sul retro sono regolabili tramite velichi, con tre posizioni, una, due e tre, elastici di buona qualità,